Sono accusato di produzione e spaccio di stupefacenti, sequestro di persona e tentato omicidio. Mi chiamo Pietro Zigni e sono un ricercatore universitario. Arzate le mani! Portaci al deposito farmaci, ci serve tutto quello che c'è! Professor Zigni! Professor Zigni, neurobiologia, ho fatto esame quattro mesi fa! Voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società. Siete due latinisti di fama internazionale fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga nero. Le combinazioni sono 52 fattoriale diviso 52. Che cazzo stai a dire? Tu ti occupi di statistica inferenziale, ti occupi di variabile aleatoria. E' una scusa per un po' cacca schimale. Spegni questo cordo per favore! E' una lapide commemorativa di Teodosio il Grande, non puoi andarci di martello pneumatico. Stava cortellata, gli hanno dato bella e precisa qua. Si sono scannati per l'eredità. C'è stata un'aspra di atriba legale per la divisione... No, hai detto un'aspra di atriba legale. Chi? E io sono stato chiaro, non assumo laureati. Sì, ma guardi che è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io qui fra massimo sei mesi divento cameriere, mance, un giorno libero a settimana e 700 euro al mese. Io te li faccio guadagnare mezz'ora. Noi metteremo sul mercato una nuova droga. E per la legge italiana è perfettamente legale. E volevo farti delle domande su quella sostanza che hai appena assunto. Ad esempio questa pulsione erotica, nei miei confronti che tu non riesci proprio a trattenere, dipende secondo te da quello che hai preso forte e no, ti piaccio proprio io. Mi raccomando ragazzi, dobbiamo mantenere lo stesso identico stile di vita di prima. È successo un mezzo casino, non ti arrabbiare, eh. Ho perso il controllo del coupé, che sul bagnato... Coupé? Non c'è posto per un tavolo da biliardo, per una sala cinema. Ci hai fatto caso a questo posto pieno di mignotte? Facci caso. Non capisco perché ogni cosa che facciamo debba per forza prendere una piega surreale. Questi hanno fatto la campagna italiana di Napoleone. Io qua sono l'unico che si sta cagando sotto. E siamo anche dotati di baionetti. Io dobbiamo rompere il culo! Cagliamo l'aglio e spacchiamo la faccia! Hai fatto, beh? Non mi facevi fai testa, mi son detto a me. Provala te! Ma che c'hai in faccia? Ah no, niente, ma è un cazzo. E perché hai un cazzo disegnato sulla faccia? Sembrava una cosa divertente. Questa vita non te la meriti. Ma che c'hai in faccia? Eh? Non è un rimasuglio di un cazzo. È cazzo. Eh, fanno stipendare le indelebili.